Emiliano Olcese attaccante. L'anno scorso 27 presenze e 15 rete nella casertana. Cosa prometti ai tifosi riminesi altrettanto? Speriamo, io spero di superarmi e fare ancora di più. L'importante è fare bene, lavorare bene, fare tanti gol come quelli che servono alla squadra. Eri un idolo della tua ex squadra. Cosa ti ha spinto a lasciarla per venire a Rimini? Ho avuto altri problemi extra calcistici. Ormai è passato, non penso più a quello. Penso soltanto a lavorare e fare bene qua a Rimini. Spiegaci quali sono le tue caratteristiche. Sono centro avanti, gioco nell'aria, posso arretrarmi un po' e entrare nel gioco della squadra. Più che altro puoi aspettare il momento per far gol. Il tuo paese d'origine, l'Argentina, è famoso per giocatori di classe e temperamento. C'è qualcuno di loro a cui ti ispiri? E' forse in passato un po' attistuta. Adesso guardo a Milito. Si può imparare un po' di tutti. I giocatori argentini inoltre hanno spesso dei nomi d'arte. Tu ne hai uno? Un nome... D'arte, un nomignolo, un soprannome. Vabbè, varia. Dipende della squadra dove mi trovo. Adesso lasciamo i ragazzi che mi facciano uno nuovo. Perfetto. Allora ci dovranno pensare i tifosi riminesi. Fuori dal campo e Milano Olcese che persona è? Una persona tranquilla, seria, che le piace divertirsi, stare bene. Spero di... So già che mi troverò bene a Rimini. Sarò felice qua. Quindi ci sono tutti i presupposti per stare bene, lavorare bene e fare un grande anno. Alessandro Mastronicola, difensore ex Rimini. Alessandro, per te un ritorno a Rimini dopo averne vissuto gli anni d'oro, quelli della scalata, dalla C2 alla B. Cosa ti ha spinto a tornare? Ma... Sinceramente non avevo più voglia di affrontare situazioni un po' particolari come sono trovato ad affrontare quest'anno e due anni fa fuori. Ho sempre sperato di tornare qui a Rimini, anche se magari speravo di non trovare una situazione così negli ultimi due anni. Insomma, si è sceso dalla B alla Serie D. Sono tornato perché ci sono persone serie dietro a questo progetto, ci sono persone che sono state miei compagni di squadra, sia come allenatore, sia come team manager, persone di cui mi fido a prescindere dal calcio. E poi per me è un ritorno a casa, visto che vivo qua ormai da diversi anni. Nella tua trascorsa esperienza riminese ero un esterno difensivo. Come pensi che ti collocherà il tuo ex compagno di squadra, mister D'Angelo? Ma qui a Rimini sì, ho giocato prevalentemente esterno basso. Anche se poi, sia in qualche circostanza, anche qui a Rimini, sia negli anni dopo che sono andato via da Rimini, sono stato utilizzato da centrale. L'ultima stagione sono stato utilizzato sempre da centrale. Con mister D'Angelo ne avevo parlato, che lui probabilmente ha intenzione di farmi giocare da centrale difensivo. Quindi non credo di aver problemi. È importante allenarsi per bene, insomma. Lo hai conosciuto da giocatore. Cosa ti aspetti da Luca D'Angelo, allenatore? Ma se come allenatore è bravo come giocatore non ci sono problemi. Credo sia così. Ne ho sentito parlare bene da tanti. Io lo conosco personalmente. E credo che non faccia fatica a diventare un grande allenatore come era da giocatore. Tu Alessandro sei un giocatore di grande esperienza. E' probabilmente quello che ho più presenza a Rimini. Possiamo quindi aspettarci un Alessandro Mastro Nicola capitano? No, non sono io a dover decidere. C'è un allenatore e c'è soprattutto una squadra. È la squadra che, non dico che elegge il capitano, però è una squadra che deve riconoscersi in una persona. Insomma, sarebbe un onore per me portare la fascia di capitano, una fascia di capitano che è stata di grandi persone. Ricchiuti d'Angelo stesso, quindi bravo. Quindi se per me sarebbe un onore la porterei con orgoglio. Quest'anno, per la prima volta, il Rimini si troverà a giocare un derby. Rimini contro Rimini, AC Rimini contro il Real Rimini. Come la vedi? Non lo so, ho seguito un po', non un po', ho seguito. Stando qui a Rimini è normale che uno segua le vicende. Sarà una giornata particolare. Chiaro che poi lì ognuno deve fare qualcosa di più per portare a casa il risultato. Però a prescindere di quella sarà una partita. Una, due. Una l'andata e una ritorna. Il resto, la parte più dura sarà l'intero campionato. Marco Brighi, centrocampista. Per te, cresciuto nel vivaglio bianco-rosso e che in prima squadra è già collezionato nel 2001-2002, 29 presenze realizzanti e anche un gol, si tratta di un ritorno a casa. Sei dispiaciuto di lasciare per il momento la Lega Pro per ripartire dal campionato nazionale di lettanti? Sicuramente è un passo all'indietro, se così si può chiamare. Però comunque si arriva in una grande piazza, una grande società e poi la speranza di ritornare al più presto in Lega Pro c'è. Quindi diciamo che è un mezzo passo all'indietro. Lasci il Bellare dopo sei anni. Cosa ti resta dell'esperienza in bianco-azzurro? Sicuramente dei bei ricordi, ho lasciato rapporti con delle ottime persone che comunque coltiverò anche andando avanti. Poi chiaramente c'è un po' il rammarico per com'è finita, però penso di aver dato tutto in questi sei anni. Ti aspettavi maggiore considerazione da parte della dirigenza del Bellaria? Beh, di questo preferisco non parlare. Adesso inizia questa avventura, sono carico, fiducioso e andiamo avanti. Tu Marco, eri un obiettivo di mercato sia della C Rimini ma anche delle Reale Rimini. Possiamo dire dunque che per Marco Brighi si è giocato il primo derby della stagione anche se non sul campo, lusingato da tutto ciò? Sicuramente fa piacere. Ringrazio ancora Mister Neri che comunque conosco e ho avuto già i tempi di Bellaria. e quindi ecco la stima reciproca penso che rimanga. Poi la scelta è stata fatta e quindi non parlerei di derby, però concentriamoci sulla C. Quanto è inciso sulla tua scelta e la possibilità di giocare con tuo fratello Andrea? No, beh, sicuramente fa piacere, però penso che quando il calcio diventa anche un lavoro certe cose vanno lasciate fuori. Poi chiaramente c'è stata questa possibilità e sono ben contento di sfruttarla. Cosa ti ha detto di questa scelta, Matteo? No, beh, contento. Risparmierà un giornale il lunedì per vedere i risultati, quindi ci guarderà insieme per una volta. E ti ha detto qualcosa di quanto è accaduto a Rimini in questa tribolata estate? No, penso come tutti i tifosi del Rimini e riminesi si è dispiaciuto, ecco, come penso per tutti, quello che è successo, la non iscrizione, poi il fatto delle due squadre penso che sia un po' triste, però bisogna chiudere questo capitolo e riaprire uno nuovo. La tua ultima stagione è stata influenzata purtroppo da un brutto infortuna al ginocchio, adesso come stai? No, bene, la preparazione è iniziata bene, senza intoppi, comunque il lavoro fatto quest'estate sta dando i suoi frutti, quindi sono contento per come sta andando. Cosa ci vuole per vincere un campionato difficile come l'AD? Ci vuole tanta umiltà, dei giovani bravi che penso qua non mancano, e poi ecco, niente, il lavoro duro durante la settimana, penso che poi ripaghi la domenica. Andrea Brighi, per te scegliere la C Rimini, che di fatto ha assorbito il settore giovanile del vecchio Rimini, è stato un percorso all'insegna della continuità? Sì, diciamo che è stata una continuità, perché comunque devo molto ai colori bianco-rossi, soprattutto alla dirigenza che mi ha sempre tenuto in conto in questi anni, quindi è stata una continuazione sicuramente. Avevi diverse offerte anche di squadre di categorie superiori, cosa ti ha spinto a restare in bianco-rosso? Probabilmente il fatto di rimanere a casa, anche per finire la scuola, è stata una spinta in più, però comunque per questa Serie D penso sia un palcoscenico importante, comunque confrontarsi con dei giocatori già maturi, già cresciuti, penso sia una cosa importante. Ti emoziona il fatto di giocare in squadra con tuo fratello Marco? Sì, diciamo che più che emozione è un ritorno quando giocavamo da piccoli, quando giocavamo nel cortile, però comunque è un compagno come tutti gli altri. I consigli se te ne hanno dati dei tuoi fratelli maggiori, visto che siete tutti quanti calciatori? Ma i consigli sono sempre gli stessi, quindi stare sempre molto sul pezzo, non fare niente per fare, ma allenarsi sempre duramente. Credi di partire titolare nelle gerarchie di D'Angelo? Questo non lo so, questo vedrà sicuramente il mister, poi vediamo come decide il mister.